Una presenza importante verso chi ha bisogno. Stiamo parlando della sezione veronese della società San Vincenzo de Paoli, tra le prime in Italia. In questo anno difficile, grande, l'impegno delle diverse conferenze presenti in città e in provincia verso famiglie in stato di disagio. I numeri parlano da soli. Noi come totalità di conferenze, 48 sul territorio della provincia, 32-33 in città, 16 circa in provincia, abbiamo aiutato circa 4.000 persone. L'anno scorso c'è stato richiesto dalla Federazione Nazionale di Verona così fare un censimento molto alla mano, di saper dire l'incremento, quanti nuove persone hanno chiesto il nostro aiuto. 27 conferenze, quindi poco più della metà, hanno risposto e hanno segnalato un numero di 900 persone in più che hanno chiesto aiuto o per la prima volta o persone che ormai avevano vissuto un periodo significativo di autosufficienza, ma che causa Covid si sono trovati di nuovo nel bisogno. Quindi è stato un incremento notevolissimo e i vincenziani hanno risposto con generosità, anche perché hanno trovato molta generosità da parte di benefattori, anche anonimi, che hanno mandato, fatto bonifici, hanno mandato... Noi ci sosteniamo solo su offerte di praticamente di privati e sulla nostra colletta, perché la caratteristica della San Vincenzo è che a ogni riunione di conferenza del gruppo si fa una colletta segreta in cui ognuno mette secondo le sue possibilità. E quella è una delle forme, diciamo, di finanziamento. In quartieri popolari, come può essere quello di Borgo Roma, insomma la zona di Verona Sud, com'è stato questo anno di impegno, di lavoro, di solidarietà? Sì, è stato un anno impegnativo, proprio perché, a conferma di quello che ha detto Franca, ci siamo trovati con delle difficoltà ulteriori, che sono state quelle della chiusura quasi totale delle attività che c'erano sul territorio. E dover comunque accompagnare ed incontrare le persone che avevano bisogno, abbiamo dovuto trovare dei sistemi un po' alternativi. Allora, la nostra conferenza incontra principalmente attraverso un centro ascolto e attraverso la visita domiciliare. L'anno scorso questo per parecchio tempo ci è stato impedito, ma abbiamo trovato la possibilità attraverso il telefono, attraverso la rete internet, i social, di poter comunicare con le persone. Anche perché queste persone avevano bisogno di sentirsi comunque ancora accudite, di sapere che c'era ancora qualcuno che pensava loro. Tante le abbiamo indirizzate a fare la domanda per i buoni spese che aveva messo a disposizione il Comune. Per tanti, attraverso poi anche l'aiuto di Caritas, abbiamo potuto consegnare delle borse della spesa. E poi voglio segnalare che c'è stata una grande partecipazione dei parrocchiani, che su richieste che si mandavano via con WhatsApp, arrivavano in parrocchie a genere alimentari per le persone che magari non sapevano più a chi rivolgersi e sono potute passare di lì e abbiamo potuto aiutarle. Sono arrivate alcune famiglie nuove, famiglie che avevano lavori diciamo un po' in questi settori che sono stati maggiormente colpiti, l'alberghiero, la ristorazione e tutta la filiera che ci va dietro a questo. E la cosa triste che a noi ha fatto più dispiacere erano quelle famiglie che erano state aiutate nei tempi e si erano un po' sollevate che purtroppo con la pandemia hanno rivisto ricadere il loro reddito. Abbiamo cercato di aiutarle in tutte le maniere, anche contribuendo economicamente la nostra parrocchia, ma come tutte le parrocchie. La gente è molto generosa. La generosità dei benefattori che è stata veramente veramente notevole e ci ha permesso di poter andare incontro ai bisogni di tutte queste anche nuove persone che ci hanno contattato. Per bisogni si intende bisogni di prima necessità, quindi il cibo, ma non solo, voi fate molto di più. Allora, i bisogni di prima necessità, allora cibo, ma per quello noi ci appoggiamo una parte delle conferenze al Banco Alimentare, per cui chi mensilmente, chi quindicinalmente prepara delle cosiddette borse, dei pacchi, un'altra parte di conferenze, quasi lo stesso numero 20 a 20, si appoggiano invece agli empori della solidarietà che sono ormai diffusi anche a livello cittadino e anche provinciale. Il cibo non è mai mancato. Possiamo dire che ci sono stati interventi da parte anche poi del Comune, che ha integrato la Caritas. Poi noi diamo una mano notevolissima per il pagamento delle utenze, perché c'è stato proprio un aumento di bisogni esponenziale, perché la maggior parte delle persone che noi assistiamo lavorano nel terziario, nell'ambito alberghiero, nella ristorazione o nell'assistenza, badanti, collaboratrici familiari. E quindi c'è stato un crollo nei posti di lavoro, insomma sono rimasti a casa tantissimi, e quindi c'è stato questo bisogno ulteriore di andare incontro nelle utenze. Ed ora con le possibili riaperture e la ripresa delle attività, la San Vincenzo pensa a continuare con il suo impegno, aprendo anche la strada ad attività che mirino ad aiutare i più giovani, minori da supportare nella crescita e nell'apprendimento. Un aspetto anche nuovo per la nostra tipologia, diciamo, di aiuto, stiamo intervenendo sui minori. Sono stati fatti anche dei progetti, in particolare la conferenza di golosine, con altre realtà, altre associazioni, per interventi sui minori di accompagnamento, anche i genitori di corsi di italiano dopo scuola, perché l'emergenza minori è grave, è grave. E ci stiamo orientando proprio in quel senso lì. Grazie. 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 Grazie.